Il mondo è metà da vendere ma che è contatto Ascolta, ogni cosa ha il suo acquirente Basta trovarlo Non vale anche male per l'onda che c'è Piano male Qua diviene il piano, considera che c'è sulla 34 Una barca da gioco perfetta questa Buttano in acqua Buttano in acqua Fai l'ultimo giro per fermarti prima di Fa fatica a trovare Ma perché ho il primo Piano Alla fine è una delle barche più oneste che ho Questa, guarda Ops Questa è la furia Beh quello lo sai che è mio Portalo qua, portalo qua Spalanca Questa è la furia Questa è la furia Questa è la furia Questa è la furia Comunque tu le 70-80 ci sei questa No, da gioco va benissimo Eh portalo qua che lo tiene fuori Sexbomb non delude mai Questa è la furia Pianca Questa è la furia Grazie a tutti.